Nelle ultime settimane ragazzi ho avuto la possibilità di provare tantissimi prodotti per la pulizia della casa e ad essere sincero un po' faccio difficoltà ogni volta a dovermi liberare di questi prodotti, farli ritornare al mittente perché, diciamocela tutta, la cara e vecchia scopa è sì, molto bella, ok, il fascino del vintage ma vuoi mettere con una bella scopa Spiravolver Smart che fa tutto lei, tu non devi preoccuparti di nulla con una sola passata è tutto pulito, non devi piegarti per raccogliere insomma sono tantissimi i pregi di questi dispositivi smart è vero però che sono tanti dispositivi molto costosi che non sono alla portata di tutti oggi però vi voglio parlare di un dispositivo che ho ricevuto in prova ed è prodotto dall'azienda Vactidi il modello è il Blitz V8, ok, direte voi sicuramente è un brand più sconosciuto del solito ma se vi dicessi che fa parte del gruppo ProScenic probabilmente potrei tranquillizzarvi io quindi vi parlo di questo dispositivo, ripeto, molto economico che ha del grande potenziale sigla e cominciamo se non mi avessero suggerito da dietro le quinte ragazzi che si tratta di un sottobrand di ProScenic probabilmente però me ne sarei accorto perché visivamente le differenze nel design di questo prodotto sono grossomodo evidenti perché le linee seguono un po' quelle dei prodotti di ProScenic soprattutto del ProScenic, i 10 che personalmente ho provato nelle scorse settimane tralasciato l'aspetto delle somiglianze questo Vactidi Blitz V8 è realizzato interamente in policarbonato e le colorazioni di riferimento sono il nero ed il verde che tra l'altro è il colore che rappresenta il brand incluso nel packaging il peso è piuttosto contenuto, meno di 3 kg ed è molto comodo da utilizzare in qualsiasi scenario anche con una sola mano ci troviamo di fronte al telaio con un'impugnatura a pistola è presente sempre il classico e praticissimo grilletto per accendere e spegnere l'aspirapolvere ed è il grip ovviamente eccellente con qualunque tipologia di mano l'utilizzo segue sempre un po' le solite logiche se premiamo il tasto la prima volta accendiamo l'aspirapolvere con la seconda pressione aumentiamo la potenza di aspirazione mentre alla terza spegniamo il dispositivo su questo modello estremamente economico ragazzi non ci sono led o display touchscreen e via dicendo gli unici led che sono presenti sono quelli integrati proprio sulla batteria che tra l'altro è removibile, si illumina di colore verde quando è carica e di colore rosso quando è scarica oppure quasi scarica e poi ci sono i tre led di colore blu sulla parte superiore che sono dei classici led di stato insomma che indicano appunto che l'aspirapolvere sta funzionando come se non ce ne accorgessimo insomma dal suono la capacità del contenitore per lo sporco è pari a 1.2 litri e questo colloca il prodotto in una fascia sicuramente più alta tanto da competere con prodotti ben più costosi il lato positivo inoltre sta nella presenza del filtro EPA a 4 stadi completamente lavabile ed in grado di catturare fino al 99,97% di particelle di polvere fino a 0.3 micron tra le cose che più ho apprezzato posso dirvi sicuramente la presenza dei led luminosi sull'accessorio per la pulizia del pavimento ok non sarà di sicuro una novità esclusiva di questo prodotto ma vederla su un dispositivo economico mi fa sempre molto piacere prima di parlarvi però dei test veri e propri ragazzi come al solito vi voglio dire due dati tecnici riguardo la scheda tecnica vera e propria e i motori di questo Vacti di Blitz V8 nel dettaglio si tratta di un motore brushes da 130 watt in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 20.000 pascal quando ovviamente utilizzata in modalità massima se confrontiamo i numeri con altri produttori posso dirvi tranquillamente che sono valori lievemente sopra la media soprattutto nella fascia di 100 euro dove ci sono ben pochi player che se la giocano tra lasciate la parte diciamo pseudo polemica le prestazioni migliori di questo Vacti di Blitz V8 le ho notate senza dubbio con l'accessorio più corti come la spazzola per tessuti o il beccuccio di precisione dove la potenza di aspirazione è buona e con le polveri sottili come briciole, capelli o polvere tra i sedili della mia auto non ho incontrato difficoltà di alcun tipo inclusa nella moquette di fondo sotto i tappeti solitamente un po' più complicata da pulire a fondo poi sono andato avanti con i miei test e ho utilizzato la prolunga estensibile e la spazzola rotante per il pavimento anche in questo caso l'aspirapolvere di Vacti di si è comportata piuttosto bene ed è riuscita ad aspirare quasi tutto al primo passaggio nello specifico dei miei test ho usato caffè in polvere, pangrattato e origano tutti più o meno polverosi in tutti gli scenari sono riuscito a pulire egregiamente al primo passaggio ma un secondo giro l'ho sempre fatto per avere dei risultati certamente più accurati molto buono anche il livello di inclinazione della scopa oltre alla rotazione a 180 gradi che permette movimenti più comodi quando ci addentriamo sotto un letto vicino a un tavolo o punti simili la potenza di aspirazione nel complesso è evidente che non è comparabile a prodotti più costosi ma come il classico aspirapolvere diciamo che fa bene il suo lavoro ed è un degno di sostituto di tanti prodotti economici in circolazione o tanti prodotti un po' più obsoleti presenti nelle nostre case che per esempio ci obbligano a sostituire il sacchetto e scenari di questo tipo quindi questo è l'aspirapolvere che si pone come obiettivo quello di mandare in pensione i vostri vecchi aspirapolvere tradizionali con il sacchetto che ormai magari fate fatica ad acquistare insomma da qualche negozio, il classico negozietto di paese per cui mandate in pensione quei vecchi aspirapolveri in funzione di un dispositivo come questo economico che fa il suo bel lavoro poi c'è la batteria che è in dotazione a questo dispositivo che è un'unità da 2.200 mAh e come anticipato si può sganciare e rimuovere così da darvi la possibilità eventualmente di utilizzare una seconda batteria tralasciato questo dettaglio l'autonomia dell'aspirapolvere è di circa 30 minuti un po' sopra la media soprattutto perché altri produttori con la stessa batteria riescono a fare un'autonomia inferiore di circa il 50% la ricarica della batteria inoltre è piuttosto veloce e richiede circa 2 ore e mezza su per giù ragazzi parliamo di prezzi però perché questo Vacti di Blitz V8 arriva ufficialmente su Amazon a 130 euro all'incirca il produttore spesso lo mette in offerta sul suo store sempre su Amazon a poco più di 100 euro come in questo momento in descrizione trovate il link ovviamente aggiornato con tutte le offerte più recenti e quello che posso dirvi è che è un dispositivo che mi ha convinto seppur si tratti di un prodotto economico è un prodotto che però funziona bene nell'uso di ogni giorno certo però non abbiate grandi aspettative perché si tratta di un prodotto da 100 euro sapete benissimo che proviamo quotidianamente dispositivi che costano anche 4, 500, 600 euro anche mille insomma dispositivi per la pulizia di alto livello per l'appunto per cui questa è un aspirapolvere che si diciamo ha come obiettivo quello di mandare in pensione le vostre obsolete aspirapolveri ma non pensate insomma di paragonare questo prodotto a Procenic oppure Tineco di fascia molto più alta io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione come al solito in descrizione trovate il link per l'acquisto e il link alla recensione testuale completa e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Giz